Salve a tutti friends, al vostro Supercorris Allora ragazzi, nell'approfondimento di quest'oggi sul Gran Premio di Spagna Parliamo di Mercedes Una Mercedes che a detta di tutti Avrebbe recuperato la gap sulla Ferrari e probabilmente anche sulla Red Bull Ogni gara ragazzi sento dire la stessa cosa Eh ma Supercorris, hai visto? La Mercedes è arrivata e è tornata sotto Tu dicevi che non sarebbe mai accaduto Ma ragazzi, ma io forse vedo Scusate, c'ho l'orecchino che me lo metto solo quando esco perché sennò mi fa fastidio Io ragazzi vi dico, ma probabilmente molti di voi non hanno un'esperienza adeguata Per valutare le prestazioni e quello che accade in pista Magari non vi concentrate perché a me capita spesso Di vedere persone che magari guardano la gara di Formula 1 Col telefonino qua in mano a cazzeggiare Con altre cose da fare No, se voi guardate le prestazioni in pista raga è evidente una cosa Mercedes quest'anno non potrà mai lottare per il Mondiale E non potrà mai sopravvanzare Ferrari e Red Bull a livello prestazionale Abbiamo visto a Miami, miglior tempo di Russell nelle prove libere Prove libere che abbiamo visto tante volte anche l'anno scorso Svettare Ferrari, una Ferrari che poi in gara praticamente non è mai stata in bagarre per vincere Quindi vi dico io Si possono valutare le prestazioni di un'auto dalle prove libere Dove ci sta quello che gira senza benzina Quello che gira con le gomme usate Quello che gira con le gomme nuove Non si può valutare Quindi il discorso ora qual è semplicemente Abbiamo visto anche in Spagna una Mercedes che sembrava essere bestiale Il primo settore Poi negli altri due faceva cagare Le ha prese da Leclerc quando si è ritirato Già gli aveva dato 20 giorni Si è a Russell che Hamilton che stava ancora dietro Ma l'abbiamo visto anche se Sainz non avesse fatto quelle minchiate Non l'avrebbe vista la Mercedes ragazzi E con che facilità parte nel rettilineo dove Russell si è difeso bene E c'era il problema A Verstappen Cioè Red Bull non se l'è pensata per niente la Mercedes Quindi vi dico io Perché alla settima gara continuiamo a dire Eh ma Mercedes può tornare in lotta per il mondiale Non è così Non è così perché già in una stagione normale Dove non ci fosse stato il budget cap Sarebbe stata un'impresa eroica A recuperare un gap del genere Ma quest'anno ragazzi non ci sono i soldi Non c'è la possibilità di intervenire radicalmente su una vettura Il gap che c'è nelle classifiche è già molto ampio Quindi non ci sono i presupposti Per me Mercedes farà un buonissimo campionato da terza forza del mondiale Può vincere anche una barra due gare Se accade qualcosa oppure se arrivano proprio in una pista dove gli va tutto bene Ma in caso normale abbiamo visto che Mercedes Non è neanche lontanamente all'altezza di Ferrari e Red Bull Perché la macchina ha delle problematiche Un po' su tutta la linea Abbiamo visto motoristicamente va bene Ma non è il miglior motore Cosa che era l'anno scorso Abbiamo visto a livello di velocità di punta Quindi non è la macchina migliore del mondo A livello di percorrenza curve Sì a Barcellona Il primo settore con curve abbastanza ampie Andava anche bene Ma poi quando c'è bisogno di creare deportanze nelle curve un po' più lente Si perde la Mercedes completamente Abbiamo visto che c'è un Hamilton Che già prima a inizio campionato Quando non aveva avuto problemi Spesso e volentieri stava dietro Russell Ora c'ha pure i problemi che gli vanno addosso Piccoli errori Cioè Hamilton paga anche le strategie di un team Che alle volte l'ha messa in difficoltà Io devo essere sincero Per quanto non sia tifoso di Hamilton Né della Mercedes Ho ammesso che alcune strategie Sono state pro Russell Quindi È chiaro che Vedere una Mercedes oggi Che può lottare per il mondiale Addirittura può sopravanzare Ma non dico tanto Red Bull Ferrari C'è un qualcosa raga Che non è per niente attinente alla realtà Chi dice questo Non è una persona Che segue la Formula 1 Io mi ricordo Un episodio simile Ferrari 2005 Che veniva dal dominio 2004 Ma dal dominio di 6 anni di mondiali Costruttori Nel 2005 va malissimo Cambiano le regole Ma nelle prime gare Comunque Ferrari sarà giocata I podi e le vittorie Non a caso anche Imola Ha rischiato di vincere Schumacher Su Alonso E poi È stata una discesa A livello prestazionale Sempre verso un baratro Perché quell'anno Ferrari prese Tirò i remi in bar Che si concentrò sulla vettura Dell'anno successivo Che fu una Ferrari Poi Che rischiò di vincere i mondiali Molto competitiva Mercedes farà questa stessa cosa Perché vi ripeto È chiaro che anche Mercedes Hanno capito Ragazzi Se vi andate a vedere Ci sono mille articoli Su internet Dove si parla di Mercedes Che bloccherà lo sviluppo A breve Si parla di Toto Wolf Che già ha dato disposizioni Per iniziare a ingranare Lo sviluppo Sulla macchina dell'anno prossimo Perché È chiaro che Mercedes Deve cambiare la propria filosofia La filosofia Che l'ha portata a vincere Tutti quei mondiali A fare una macchina Comunque sulla falsariga Dell'anno scorso Non paga più Con le vetture a effetto suolo Le basi I principi di Mercedes Non sono più quelli che pagano Quindi Mercedes Deve per forza di cose Adesso cambiare filosofia Cambiare filosofia Significa stravolgere tutto Quindi Non lo puoi fare Se lotti fino alla fine Sviluppi la macchina Fino alla fine Lo puoi fare Se adesso Blocchi questo sviluppo E pensi ad altro Alla fin fine Gli sviluppi fino a Poco più di metà stagione Ragazzi Già sono stati stanziati Quindi non è che Se ti fermi ora La macchina si blocca oggi Comunque Delle cose Sono state studiate E le porti Nelle prossime gare Anche chiaro Che alla 15 16esima gara Blocchi completamente Lo sviluppo E ti concentri Sulla macchina nuova Questo è quello Che farà Mercedes Ma pure qualche gara prima Perché alla fin fine Vi ho detto L'obiettivo adesso Dei tedeschi È quello di mettere in cascina Il terzo posto Metterlo a sicuro Da McLaren Alfa Romeo Che sono team Che secondo me Non possono attaccare Mercedes Perché McLaren L'abbiamo visto Fa una gara bene E 5 male Alfa Romeo Corre con un pilota solo Quindi Vuoi Per forza di cose Che non possono Attaccare Mercedes Al momento che si arriva Alla 10 Ma 12 13esima gara Che tu c'hai 150 punti di vantaggio Su quelli dietro Mercedes Blocca completamente Lo sviluppo Gli dice a Russell Hamilton Provate a fare Quello che potete fare Con questa auto Che non è detto Che Se blocchi lo sviluppo Alla 13esima gara E ce ne sono altre 9 10 da correre Non possono fare nulla Abbiamo visto anche La Ferrari L'anno scorso Su alcuni circuiti Nonostante lo sviluppo Fosse bloccato Per tutta la stagione È andata bene Perché poi sono piste Dove quella vettura Si amalgama meglio Quindi Non è detto Che Mercedes Blocca completamente Lo sviluppo Per l'anno prossimo Decade tutto No Magari se arriva Che cazzo ne so In Messico Si trova bene Su quella pista E ti può fare un podio Ti può lottare Per la vittoria Ricordiamo appunto Sainz Fare tanti podi L'anno scorso Nell'ultima parte di stagione Anzi In Russia Stava lottando Anche per la vittoria Sainz Perché stava tenendo Un passo Sontuoso Con una vettura Che già Non era stata sviluppata Per niente Quindi vi dico io Ci sono le possibilità Per Mercedes Comunque di puntare Un paio di vittorie Due tre vittorie Comunque di fare dei podi Comunque di blindare Il terzo posto Nel costruttore Però non è con ogni gara E fa il miglior tempo Nelle libere Oppure Gira a tre decimi Quattro decimi Dai primi È tornata la Mercedes Adesso lotta Per il mondiale Ma ha scritto uno Guarda che adesso Mercedes supera pure Ferrari Ma raga ma che cazzo Ma che c'è Arriva a casa vostra Qualche Vi sintonizzate Su qualche altro pianeta Che c'ha la Formula 1 In maniera diversa Perché ragazzi È palese Che Mercedes Quest'anno non c'è Abbiamo visto che Russell in Spagna Per tenersi dietro Perez Verstappen ha dovuto sudare 18 camice E non c'è riuscito Non c'è riuscito Perché appena l'hanno superato Se ne sono andati Ricordiamo Leclerc Che già se n'era andato E è bastato vedere Anche in qualifica Sainz era davanti Quindi vi sto dicendo Non pensate a una Mercedes Che possa lottare Per il mondiale Quest'anno È indiscutibilmente impossibile Poi è chiaro Che poi mi dite L'anno prossimo Che può fare L'anno prossimo Se Ferrari e Red Bull Fanno questa sfida Così serrata Fino alla fine È chiaro che l'anno prossimo Mercedes parte È vantaggiata Però c'è anche da dire Che magari Ragazzi Ogni era Ha i suoi dominatori Mercedes è partita Troppo bene Nell'era ibrida Con le vetture Che c'erano Ha dominato Può darsi anche Che magari L'anno prossimo Ferrari e Red Bull Con l'ottima base Di quest'anno Possano rimanere davanti Non è detto Io credo Che un team come Mercedes Facendo le giuste modifiche L'anno prossimo Torna a lottare Per il mondiale È inevitabile Ciò Però vi dico Che ci vuole Tanto lavoro E in più Quest'anno Ti appresti Una stagione Dove in tante gare Dove gli altri Portano gli sviluppi E tu rimani al palo Fai delle figuracce Perché vedere Hamilton In gare come Imola Che rimane inchiodata Al quattordicesimo posto Ragazzi È una vergogna È una vergogna Per quello Che il team ha fatto Ferrari andò male Nel 2005 Però Comunque stava Palesemente Sempre la zona punti Dentro la zona punti Prendeva punti Ogni tanto faceva il podio Vedere una Mercedes Così indietro Ragazzi Io mi sono vergognato Ma anche Russell Russell Era facilmente superabile Da botta Se non Non ci fosse stato Quel problema Alfa Romeo Al pit stop Se no Mercedes In tante gare Neanche l'Alfa Romeo Avete Quindi vi sto dicendo Cioè La stagione per Mercedes È veramente una debacle Se andiamo a vedere Quello che ha fatto Negli anni scorsi Un decadimento del genere Non se l'aspettava nessuno Ma tutti lo speravano Anche in federazione Perché vi dico la verità Se quest'anno Stesse vincendo ancora La Mercedes Gli ascolti del mondiale Sarebbero enormemente E più bassi Quest'anno E state vedendo Prolifera Anche su YouTube La Formula 1 Tutti parlano di Formula 1 Tutti fanno le pagelle Perché ci sta Ferrari Che vince C'è Ferrari competitiva Ed è un campionato Bello Tra due fenomeni Molto giovani Se ci fosse stata Ancora la Mercedes Davanti Ragazzi Gli ascolti Della Formula 1 Sarebbero Palesemente Inferiori Deludenti Perché la gente Si è stufata Sostanzialmente In Formula 1 Gli ascolti li fa Quando lotta Per la Ferrari O vince la Ferrari Per la vittoria E per il mondiale E quando ci sono Duelli belli Tra team Che magari Non è che hanno vinto Così tanto Come sono Ferrari E Red Bull Ultimamente Mercedes Aveva proprio stufato Ed è un toccasana Per tutto il movimento Che non sta vincendo E si trova in difficoltà C'è possibilità Anche per gli altri Poi io Vi dico Durante un mondiale Può capitare La gara come l'Ungheria Doveva vincere Proprio il più Scalmanato L'anno scorso Vinse Ocon Ma un Ocon Che non vincerebbe Mai una gara In una situazione Normale Ha vinto Quella gara Miracolosamente Metterà la coppa Come tanti altri Che hanno vinto Una gara sola Miracolosamente Metterà la coppa Allà Ci fa una bella Statua della Madonna Dietro Perché mi ricordo La vittoria di Panis A Monte Carlo 96 Arrivarono Quattro macchine E tutto dire Panis Non avrebbe mai vinto Una gara del mondiale Se non ci fosse stato Un cataclisma È quello che vi dico io Mercedes può vincere Ma ci deve essere Davvero un cataclisma In pista Attualmente Per come stanno le cose Quindi Ora va a finire Io a Monte Carlo Il venerdì Rifanno Una buona prestazione E io mi devo risorbire Messa Eh però Tu l'hai data per finita Rai non è che l'ho data per finita Siamo a sette gare del mondiale Ma tu quando recuperi È quello che vi dico di Sainz Cioè Sainz Quando può lottare Per il mondiale Per quelli che mi dicono Ancora Sainz Può lottare per il mondiale Quando Cioè dovrebbe vincere 3-4 gare E dovrebbe pensare Che le Clerc e Verstappen Si vanno a prendere il caffè Durante le gare Non lo può vincere Il mondiale Sainz Ma neanche Perez Non lo possono vincere Perché c'è stato Troppo di stacco all'inizio Stessa cosa Mercedes Come fa a vincere il mondiale Mercedes Che già C'ha parecchi punti I piloti ci hanno Rispetto ai primi E anche nel costruttore 30-40 punti Significa Tu comunque devi fare Vittoria E gli altri si devono fermare E non è così Raga una volta succede Poi la volta dopo Comunque Le cose si ristabiliscono Quindi Per me Mercedes Quest'anno Non lotta per il mondiale Fatemi sapere Come al solito vi dico Alla fine Iscrivetevi a questo E al secondo canale Dove ci sta Resident Evil Village Che è una figata Lasciate un bel like Seguitemi sui social Sul canale delle offerte Telegram Supercorris Offerte Amazon Anche oggi ho messo di tutto E di più Andatevi a facciare C'è il canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram Per le news in anteprime Sondaggi C'è Fruiter Abbe C'è Twitch Grazie Voglio